Grazie a tutti 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 No, ti ho raccontato anche in alcuni incontri che abbiamo avuto con lo staff di Borgodale prima della manifestazione della tua passione per la musica, ecco. Da cosa nasce questa passione che è in te per la musica? È nata sin da quando è nata, è nata sin da quando 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 ero in culla, grazie al mio papi che me l'ha trasmessa. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.